Nelle ultime ore, durante il pranzo nella casa più spiata d'Italia, Clarissa non è riuscita a trattenere le lacrime. Il motivo è che a tavolo hanno aspramente criticato il pranzo fatto, con commenti poco carini. Lei quindi è scoppiata a piangere. Ecco le sue parole. La gente non apprezza mai nulla, il cibo è d'oro. Ci sono persone che soffrono e non hanno i soldi per comprarsi neanche un pezzo di pane. Mi si spezza il cuore. Lo sfogo della principessa non è stato gradito da Soleil Sorge, che subito ha detto la sua davanti a tutti, generando qualche malumore. L'italo-americana ha giudicato esagerato lo sfogo della principessa la quale, sentendo alcuni malumori causati dal riso troppo crudo, è scoppiata a piangere. Soleil, a tavola con i suoi inquilini, ha detto la sua. Non si può dire assolutamente niente a nessuna delle sorelle che subito si reagisce in modo esagerato. Voi cosa ne pensate?